e bello a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video oggi siamo su clash royale insieme al mio amico leo saluta leo ok giocheremo 34 partite insieme su una tripla strategica e vediamo alla fine chi vincerà la partiamo benissimo felice e scegliamo in silenzio perché sono quello sente per difendere e qua è difficile la scelta leo tu che cos'hai 4.0 io sono pronto vai facciamo subito con uno scelta da dietro per per non far ritarne il nuovo spiritello perché è un azaco felice da dietro scelta immediatamente congelamento macchina volante da dietro non è da fare un po di danni adesso per difendere la mettiamo due guardie guardie difensive anche per difendere il purcedo che arriva adesso io partirei e no non parto niente perché devo difenderla lungo ok buona difesa vediamo non dovrebbe neanche stare non sbaglio buono non ha neanche tanto ha sbagliato però forse rinasce buono è rinata la felice è morta subito però va bene c'è un concetto c'era ok quello lo facciamo spostare verso di qua buono così facciamo camminare ok allora io direi di fare una cosa azzardata che non so se funzionerà niente niente cosa azzardata no è partito così c'era non è partito così azzardata non è partito così azzardata non hai capo il buono via la cosa azzardata via 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 e per bolla che bomba mi ritorno indietro sicuramente devo riprendere mille suora per l'oro buono è accanto mi ritorno unủ per l'oro mi ritorno un po' di fronte adesso ce la guardia di una piccola qualche bando doppia sentina doppia sentina e adesso è quasi impossibile adesso è quasi impossibile una partita zero come te la sei sentita come te la sei sentita ok ragazzi partiamo con la partita come questo lei è questa pure qui andiamo con questa per difendere quel material è quello che hanno gli anzi per far camminare e infine per noi per difendere io io 3.5 4.0 sei pronto a essere erato punto di domanda congelamento congelamento più non ci credo che congelamento tirato che congelamento tirato il bombito hallo il bombito hallo il bombito hallo eeeh mi avevo messo male il golem ho fatto un sacco di danni leo ti ho arato ti ho distrutto te l'ho bucato la ciotola non esiste più leo puoi anche parlarne la ciotola ok ok il secondo è il primo guarda che ho fatto 2-3 2-3 2-3 lì l'ho bucato ancora di più la torre Antrag oh non c'è eh oh quel bocciatore non mi piace quel bocciatore non mi piace la felice vai ti distrugge ti distrugge si vai felice vai felice la felice fa schif a me non piace molto la felice la felice la felice la felice è perfetta qua sono un po' irritato un bocciatore che viene fermato con il golem e adesso si trova l'attacco finale non so mi stupere oh no si guarda qui voglio di lei oh dio oh dio oh dio oh 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 Non ci credo mai Non ci credo mai Siamo uno pari L'ultima partita Chi vince questa vince tutto Tu avrai il deck migliore Faremo due a una male Vediamo Chi vince questa vince tutto Allora Io prenderei questo Poi Lui lo è sbloccato Lui aveva quella scelta Quindi io prendo questo Congelamento Cacchio ve l'ho detto Vabbè non torna Prendo sempre quella Andiamo così Bello questo E lui Cosa Quanto hai? 4.1 credo 3.4 Vai si parte subito forte Si parte subito forte Quella recruta Quelli fa qualche hit Mi si blocca il canone Leone posso dire E farti una domanda Hai preso la strega madre No Cacchio Adesso potrebbe partire L'attacco più forte Che vi farà vincere la partita Bella Concelamento Predix Predix per la congelamento Non ci credo Che congelamento Tirato Non ci credo Che congelamento Ragazzi Che congelamento Che congelamento Mi sa che questa partita Eh 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 Non so Aiuto Buttate la giù a quella Aiuto Eh niente Eh niente E va bene Però Tu c'hai quello Non è possibile Oh Non è finita La partita Non è finita La partita Non è finita Ragazzi Non ce la posso Ancora fare Forse Ce la posso fare Guardate che sto zitto Perché si può guardare Tu stai giusto Grazie Congelamento Vieni da me Vieni da me Bravo No perché Stai 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 Dai Non ci credo Non ci credo Dai Dai Ti prego Ti prego Su Ok Non ci credo Ragazzi Non ci credo Alla fine L'ha vinta lui Non ci credo Però Ammetti Che avevi Un deck Tre volte Meglio Avevi Avevi Il deck Trecento Volte Meglio Quando ti conviene Vabbè bella Per questo Per questo Per questo Video è tutto Ragazzi Lasciate un like Iscrivetevi E attivate la campanellina Per non perdervi Nessun altro video Ed ho detto questo Bella L'ha vinta la campanellina L'ha vinta la campanellina L'ha vinta la campanellina L'ha vinta la campanellina